Il sindaco di Pescara Masci inaugura via Benedetto Croce, migliorerà la viabilità della città, ma Costantini lo attacca. Su Viale Marconi, modifiche temporanee. L'8-0 dopo la sentenza del Tarra, il centrodestra attacca duramente il sindaco di Sernia Castrataro, contribuisce alla sfissia dell'economia cittadina, la regione pronta a ricorrere al Consiglio di Stato. Riserva del Borsacchio, il presidente Marsilio fa un passo indietro, esulta il WWF, ora dialogo e confronto per una nuova perimetrazione. Ancora un viaggio da incubo per i pendolari Molisani, Roma-Isernia partito dalla capitale alle 19.35, arriva in stazione con 5 ore di ritardo. Allevatori allo stremo delle forze, l'SOS da Teramo, dalla politica abbiamo bisogno di aiuti concreti. Calcio Lega Pro, il Pescara in cerca del riscatto contro il Ponte d'Era, Cascione tiene tutti sulla corda, Serie D, il Campobasso coccola i piccoli lupi. Buonasera, benvenuti al consulato appuntamento con la nostra informazione dall'Abruzzo e dal Molise. Apriamo con la notizia che arriva da Frosignone, ed era molto attesa la sentenza del Tribunale che doveva decidere sull'omicidio della giovane molisana Romina de Cesare. La sentenza è stata dura per Pietro Jalongo, 24 anni di carcere. Pietro Jalongo è l'ex fidanzato di Romina de Cesare, accusato di averla uccisa brutalmente a coltellate. Ci dice tutto in questo servizio Noemi Galuppo. La Corte d'Assise di Frosinone ha emesso la sentenza per l'omicidio di Romina de Cesare, la 36enne di Cerro a Volturno, uccisa a coltellate dall'ex compagno Pietro Jalongo nella notte tra il 2 e il 3 maggio 2022. Jalongo è stato condannato a 24 anni di carcere. Il pubblico ministero aveva chiesto 23 anni, omicidio aggravato dalla coabitazione e dallo stalking con il riconoscimento delle attenuanti generiche, la confessione e l'essere incensurato. Il consulente del Tribunale, nella sua perizia psichiatrica, aveva indicato chiaramente che Pietro Jalongo era in grado di intendere e volere quanto ha commesso l'omicidio. In aula, per la lettura della sentenza, il padre e il fratello di Romina. Dei filati hanno assistito alla condanna anche i genitori dell'imputato, il quale ha seguito la lettura del dispositivo dietro alle sbarre della cella di sicurezza dell'aula di Tribunale. Gli avvocati di parte civile, Danilo Leva e Fiore di Ciuccio, avevano chiesto per Jalongo il massimo della pena, sostenendo che Romina aveva tentato di difendersi prima di essere uccisa con 14 coltellate, una delle quali, quella letale, è arrivata dritta al cuore. Spostiamoci ora a Pescara, ossigeno alla viabilità di Porta Nuova con l'apertura di via Benedetto Croce. Taglio del nastro questa mattina della strada che collega la zona stadio al fiume. Agevoliamo il traffico della città, un sogno che si avvera, le parole del primo cittadino di Pescara. Un'opera attesa da anni, una strada la cui realizzazione non è stata semplice, in quanto su quella zona insistevano delle vecchie case e si è dovuto procedere all'esproprio. Ora però Pescara può godere di una nuova strada di collegamento tra la zona stadio e il fiume, ovvero via Benedetto Croce, che si interseca con Viale e Vespucci grazie a una rotatoria. Strada appena inaugurata dal sindaco Carlo Masci, dalla giunta, dai dirigenti comunali che hanno lavorato a questo intervento. Tanti cittadini hanno voluto partecipare al taglio del nastro in una giornata di sole, che per il primo cittadino ha un altissimo valore simbolico. Circa 2 milioni di euro le risorse impiegate per l'intervento di riqualificazione di via Benedetto Croce, strada parallela a Viale e Marconi, in un'area peraltro già preziosa per la presenza del santuario dell'Immacolata. Abbiamo anche in questa occasione agito con la soprintendenza i beni ambientali paesaggistici, tant'è che la soprintendenza ha voluto, proprio per mettere in evidenza il santuario, che sulla rotatoria a goccia non ci fosse un albero alto, non ci fossero alberi alti ma soltanto una siepe perché l'elemento fondamentale, forte, determinante di questa zona è proprio il santuario che la soprintendenza voleva esaltare oltre questa immagine bellissima che attraversa Pescara da una parte all'altra. Entusiaste le persone che hanno colto l'occasione anche per avanzare delle richieste al sindaco Masci. E' una cosa bellissima, solo quello riesco a dire ed era moltissimo anche alla zona. Per me è stupendo, abitando al primo piano lì quando esco la mattina vedo tutto aperto, prima vedevo tutto il casubole rotte, quindi è bellissimo. Sto davanti a me il sindaco e ho detto dopo di questi ci deve fare un po' di pulizia agli alberi. E' contento di questa giornata? Contento, contento. E nonostante l'inaugurazione di Via Benedetto Croce continuano a volare stracci sul piano del traffico di Viale Marconi. Il candidato sindaco del centro-sinistra Carlo Costantini denuncia le modalità su Viale Marconi sono temporanee. Viale Marconi è ancora terreno di scontro politico. Nel giorno in cui il sindaco Masci inaugurava Via Benedetto Croce, strada che come ha evidenziato sarà utile alla circolazione di tutta la zona di Porta Nuova, il suo antagonista Carlo Costantini convocava la stampa per denunciare quello che appare a suo dire un grande bluff. Il candidato sindaco di Pescara, smarcatosi dal suo ormai ex partito azione per capeggiare la coalizione di centro-sinistra da Civico, ha evidenziato che il dietro front dell'amministrazione comunale sulle quattro corsie in realtà sarà in vigore, solo fino a che la Galleria San Silvestro sarà chiusa, ovvero il tunnel che collega la zona sud di Pescara a Francavilla interessato dall'alluvione di novembre. Masci lunedì scorso aveva annunciato che la contestatissima corsia preferenziale Lato Monte sarà eliminata e Costantini, attorniato da tutti i referenti locali di PD 5 Stelle e liste civiche presenti in consiglio, ha ricordato tutte le falle di un piano della viabilità costato 2 milioni di euro. Se tu hai deciso di spendere un milione e mezzo di euro per realizzare le remarconi così, non puoi a pochi mesi di distanza dal collato rimangiarti tutto e rifare tutto come prima. E quindi hanno congegnato una delibera che dice, siccome c'è una condizione di emergenza per San Silvestro, noi ripristiniamo questa situazione a tre corsie con i parcheggi, ma in via del tutto provvisoria, precaria e temporanea. Quindi non è vero quello che ha detto i pescaresi con l'apertura di via Benetto Croce, questa è la soluzione definitiva. Questa è una soluzione temporanea realizzata dal mio punto di vista esclusivamente per scopi elettorali, in attesa che passate le elezioni la situazione risulti esattamente quella che è adesso e che è sotto gli occhi di tutti. Ed ora spostiamoci a Disenia dopo il ricorso del Tar, dopo l'esito del ricorso al Tar contro il lotto zero. Questa mattina un durissimo atto d'accusa da parte dei consiglieri del comunale di centrodestra nei confronti del sindaco Disenia, Piero Castrataro. Sta contribuendo alla sfissia dell'economia cittadina. Il servizio di Nicola De Santis. L'opposizione al comune Disenia è sul piede di guerra. Il ricorso sul lotto zero presentato dal sindaco Castrataro rischia di far perdere alla provincia Pentra 150 milioni di euro. Per la minoranza sono a rischio centinaia di posti di lavoro. L'infrastruttura, come è stato ribadito in conferenza stampa, avrebbe aiutato Isernia a rompere l'isolamento, oltre a rappresentare un primo collegamento tra Pesche e Pescara, quando nel 2025 termineranno i lavori a quadri per la Fondo Valle Sangro. Meno traffico su Viale dei Pentri, con positive ricadute sulla qualità dell'aria. E meno traffico sulla Trignina, con i mezzi pesanti da e per la costa dirottati sulla stessa Fondo Valle Sangro. Ma vè di più. Il sindaco ha fatto opposizione all'opera senza il parere del Consiglio Comunale, limitandosi ad una mera comunicazione alla sua giunta, forse per timore di franchi tiratori, visto che a sinistra sarebbero numerosi i sostenitori dell'opera. La minoranza chiede di conoscere con quali fondi Castrataro abbia inoltrato il ricorso. C'è la sensazione nel centrodestra che l'atteggiamento del primo cittadino sia una sorta di cambiale elettorale pagata all'estrema sinistra. Altra sensazione dell'opposizione è che la stragrande maggioranza degli Sernini voglia la realizzazione dell'8-0, mentre sta prevalendo la volontà di una esigua minoranza che, poiché rumorosa, assurge maggioranza con alcuni esponenti che hanno interessi a boicottare l'opera per fini meramente personali. Peraltro la conferenza stampa sull'esito del ricorso è stata fatta dal sindaco non in municipio, sede istituzionale preposta, ma all'ex lavatoio, dove sono ospitate le associazioni contrarie alla realizzazione dell'infrastruttura. Infine, i sindaci dei comuni interessati al tracciato non hanno seguito Castrataro sul percorso del ricorso al TAR, esprimendo in tal modo il proprio assenso all'infrastruttura e prendendo le distanze dal sindaco di Sernia. Ed allora Castrataro, la domanda posta dagli esponenti di opposizione, quando ha inoltrato ricorso, chi rappresentava se non se stesso? E perché Castrataro non ha dichiarato apertamente in campagna elettorale di essere contrario, palesandosi solo dopo aver indossato la fascia tricolore? Domande cui il sindaco di Sernia è chiamato nell'immediato a dare risposte. Ennesimo viaggio da incubo per il Roma-Isegna, giunto nel capoluogo di provincia con 5 ore di ritardo. Il treno era partito alle 19.35 da Roma Termini, ma si è fermato a Zagarolo poco dopo. La ragione è presto detta. Il treno precedente delle 18.42 aveva investito e travolto una mucca nei pressi di Colleferro. Un piccolo antefatto. I passeggeri erano stati fatti partire nonostante si sapesse già quanto accaduto. Una sosta forzata di ben due ore a Zagarolo. La sala di controllo intanto negava l'invio di navette. Dopo la ripartenza a Colleferro un'altra sosta di 40 minuti perché è stato spiegato ai passeggeri la linea non era stata ancora liberata. Dopo la seconda ripartenza i problemi sembravano risolti, ma a Frosinone il treno si è fermato per altri 20 minuti e fino a Ceprano la velocità è stata di 30 km orari per prudenza. Morale della favola, l'arrivo a Isernia alle 2.30 di notte. Ancor peggio è andata chi era diretto a Campobasso, tornato un'ora più tardi. Sei arresti per la rapina agli ospiti della struttura sanitaria di Bazzano all'Aquila. Le sei persone, tre maggioregne e tre minoregne, lo scorso 23 gennaio in piena notte si erano introdotti all'interno della struttura che ospita uomini con disturbi psichiatrici in riabilitazione in carico al centro di salute mentale dell'ASL di L'Aquila. A seguito delle indagini della squadra mobile di L'Aquila, coordinate dalla procura ordinaria della Repubblica di L'Aquila e dalla procura presso il Tribunale per i minoregni, per le sei persone sono scattate le misure cautelare emesse dai competenti GIP dei due tribunali eseguite nelle prime ore di oggi, l'applicate del carcere per uno dei tre maggioregne, un rumeno di 27 anni della misura degli arresti domiciliari e per gli altri due maggioregne, un macedone ed un italiano entrambi di 19 anni e della misura di collocamento in comunità per i tre minorenni, si tratta di due italiani rispettivamente di 16 e 15 anni ed un cubano di 16 anni. Ed ora una storia che per fortuna ha letto fine, è stata dimenticata sullo scuolabus che doveva portare la scuola, rimane sul mezzo che trova nel deposito e viene trovata solo dopo quattro ore da un gruppo di studenti che doveva salire sul pulmino. Protagonista della disavventura avvenuta ieri, come riporta Lanza, è una bambina di quattro anni che frequenta una delle scuole dell'infanzia dell'istituto comprensivo Valle del Fino che ha pressi in cinque comuni del Terramano. Ieri mattina la bimba è regolarmente salita sullo scuolabus ma una volta raggiunta la sede dell'istituto per qualche motivo l'assistente non si accorta che si era addormentata e la piccola è rimasta sul mezzo che nel frattempo è tornata nel deposito. A quel punto la bambina è stata riaccompagnata nella sua scuola dove è stata affidata alla maestra e successivamente ai genitori. La bimba si apprende dall'istituto e in buone condizioni di salute. Il servizio di scuolabus è gestito da una cooperativa nell'ambito di un appalto del comune di residenza della stessa bambina. Questa notte intorno alle 3.30 una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Roseto degli Abruzzi è intervenuta presso la stazione dei treni del comune costiero a seguito di un grave incidente ferroviario. Una ragazza rosetana di 31 anni è stata investita da un treno merci in transito verso Nord. Il treno si è fermato dopo circa un chilometro dal punto dell'investimento. Il traffico ferroviario è rimasto bloccato fino alle 6 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mosciano, Sant'Angelo e Giulianova, la Polizia scientifica e ferroviaria e il personale del 118. Ed ora occupiamoci della riserva del Borsacchio che ha fatto tanto discutere in questi ultimi mesi. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, fa un passo indietro il WWF. si auspica ora un confronto e un dialogo per la riperimetrazione. Ci dice tutto Pierluigi Boraggine. L'Abruzzo fa un passo indietro ed evita il ricorso del governo alla Corte Costituzionale con una lettera del presidente Marco Marsilio. La regione fa dietro front rispetto al taglio del 98% della riserva regionale del Borsacchio deciso la notte del 29 dicembre nel corso della discussione per l'approvazione del bilancio regionale. La lettera del presidente Marsilio giunta sul tavolo del Consiglio dei Ministri di fatto congela gli effetti della legge che taglia la riserva e impegna la regione a riportare al primo Consiglio utile la discussione su una nuova perimetrazione. Soddisfazione espressa dal WWF. È un dato positivo intanto che si voglia tornare indietro. Peccato che sia fatto intanto l'errore di tagliare la riserva sostanzialmente cancellandola, portandola da 1.100 ettari a 24 ettari. E poi che non si sia voluto ascoltare l'associazione ambientalista e tutta la popolazione che aveva firmato oltre 30.000 firme raccolte per tornare indietro e si sia voluto aspettare l'ultimo giorno per chiedere e presentare questa lettera alla presidenza del Consiglio dei Ministri che si sapeva molto probabilmente avrebbe rinviato questa legge alla Corte Costituzionale. Quindi per evitare una brutta figura e una seconda bocciatura, perché ricordiamo che la regione Abruzza è già stata bocciata quando ha tentato di tagliare il parco regionale Sirentevelino e la Corte Costituzionale ha dichiarato quella legge incostituzionale, per evitare questa si è tornata indietro. Ma su cosa si è tornata indietro? La domanda adesso è questa, perché in effetti bisognerà capire se la riserva che si andrà a discutere, la nuova perimetrazione che si andrà a discutere è come vogliamo noi quella di 1.100 ettari originario, se sono delle ipotesi a ribasso che sicuramente non possono essere accettate. Teatro d'annunzio chiuso, il comune di Pescara trova la soluzione. Gli spettacoli estivi si terranno all'antistadio Flacco, un'area che può ospitare circa 3.000 persone. L'amministrazione risponde così alle accuse del Partito Democratico. Il teatro d'annunzio di Pescara sarà chiuso per la stagione estiva 2024 e con ogni probabilità anche per quella del 2025. La conferma della notizia spoilerata dal PD nell'incontro con i giornalisti in cui i consiglieri d'opposizione hanno puntato il dito contro l'amministrazione comunale è stata confermata proprio dal sindaco Carlo Masci che però ha rispedito al mittente le accuse sulla poca trasparenza spiegando altresì di aver trovato una soluzione. Gli spettacoli all'aperto si faranno, ma in un'altra location, l'antistadio Flacco mentre il prestigioso premio Flaiano, che già l'anno scorso aveva creato di sì di con gli organizzatori, proprio a causa dei lavori in corso al teatro dovrà traslocare in piazza Salotto se ci sarà l'accordo. Avremmo spiegato tutto alla città proprio oggi. Hanno affermato nella contro conferenza stampa indetta per replicare al jacuzzi dei dem il primo cittadino, il presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, l'assessora alla cultura Maria Rita Carota. Certo è una soluzione che non è che è identica al D'Annunzio, il D'Annunzio è un teatro monumentale però comunque crediamo che sia la migliore soluzione al momento per garantire la stagione estiva. Il teatro è stato puntellato quindi nessuno ha rischiato la vita, hanno assicurato necessita di lavori importanti però stimati nella cifra di 2 milioni e mezzo di euro, prevista anche la copertura del teatro ma al momento i soldi non ci sono, l'amministrazione però confida nella mano tesa della regione. Il presidente dell'ente manifestazioni pescaresi Walter Meale ha spiegato che l'antistadio potrà ospitare 2.800 persone a fronte delle circa 2.000 del D'Annunzio. Antonelli, il PD, fa campagna elettorale. Nessuna notizia è stata tenuta segreta, la relazione è stata consegnata ai dirigenti del Comune il 6 di marzo l'8 di marzo è stata formalizzata la comunicazione alle ente manifestazioni che inibiva l'utilizzo della struttura in meno di 10 giorni abbiamo individuato anche le soluzioni e oggi ci presentiamo a raccontare alla città quello che è accaduto e soprattutto che abbiamo trovato soluzioni per salvare la stagione estiva. Fa discutere la realizzazione di alcune pale eolico nei paesaggi dell'Alto Molise tra Bastogirardi, Agnone e Capracotta. Il Movimento 5 Stelle alza il livello della contestazione e in Consiglio regionale la maggioranza si divide. In Consiglio regionale è approdata la vicenda delle pale eoliche che dovrebbero sorgere in territorio di Agnone, Capracotta e Bastogirardi. Qual è il pensiero di Andrea Greco? Il pensiero è che oggi il Molise è sotto attacco su più fronti dalla costa fino alla montagna quella più bella che abbiamo al ridosso dei siti di interesse comunitario quindi proprio come diceva lei tra Capracotta, Agnone e Bastogirardi. Parliamo di un progetto che prevede, due progetti che prevedono un totale di 6 pale eolici pensate alti 200 metri. La cosa assurda che ho sottolineato in Consiglio regionale è che questi progetti sono stati esclusi dalla valutazione di impatto ambientale quindi di fatto si procederà con degli espropri, con tutta una serie di atti che verranno fatti senza una valutazione di impatto ambientale, cioè senza capire se effettivamente questi giganti questi mostri, potremmo definirli del vento per la loro dimensione, non devono essere assoggettati a via. Questo è assurdo, l'ho detto in Consiglio regionale. Ho chiesto invece che determinati provvedimenti della regione venissero revocati o annullati in autotutela. Purtroppo l'esecutivo ha bocciato la mia proposta però c'è da dire che anche lì si sono spaccati perché parte della maggioranza ha recepito la bontà della nostra proposta. Noi non ci fermeremo e ovviamente accenderemo un faro serio su questa vicenda, ripeto, dal mare fino alla montagna. Sindaco Saia, sulla vicenda dei pali eolici qual è il suo parere? Noi, il Comune di Agnone, anni fa progettò un campo eolico su Piana del Vento che non fu approvato per una questione di pareri ambientali e abbiamo subito i pali instaurati sugli altri comuni. Oggi c'è un repowering di quel campo eolico. Il Comune di Agnone dovrà assolutamente avere delle compensazioni proprio per consentire che quel repowering venga fatto. Ma non è una richiesta, io credo che sia un dovere morale, verso il Comune di Agnone che non può installare quelle attività, ma le deve solo subire. Se continua così, io e altre aziende saremo costretti a chiudere. Così Battista Caterini, di professione allevatore, si sofferma su tanti problemi della categoria, in particolare dopo la PAC dell'uso da Governo nazionale e regionale, ma soprattutto dai sindacati che non sono riusciti a difendere i lavoratori, chiede una maggiore attenzione per il comparto, i particolari in questo servizio di Chiara Bonatti. Un periodo difficile per gli agricoltori e allevatori, quali cercano di rimanere a galla nonostante gli aumenti dei prezzi e molto altro. Si cercano alcune strade per non arrivare con l'acqua alla gola e rischiare di dover chiudere l'attività e la direzione in cui va la PAC, la politica agricola comune che dovrebbe aggiorare il comparto, ma alcuni non la pensano così. E' il caso di Battista Caterini, allevatore che si trova a dover fare i conti con una politica comunitaria, un Governo nazionale e regionale, come sottolinea lui stesso, assenti, ma soprattutto si sofferma sulla mancanza di tutela per i lavoratori nei tavoli da parte dei sindacati. E non finisce qui perché ad oggi bisogna pure fare i conti con la siccità. L'allevatore è un mestiere che si fa per passione, però sta venendo meno anche questo per tantissimi problemi della burocrazia e soprattutto per far quadrare i conti la PAC è un sostegno al reddito che invece è stata data negli anni passati a chi non ha prodotto e non produceva niente, a discapito dei veri allevatori. La nuova PAC è peggiorata perché ha tolto dei fondi e alla fine se togli i fondi ci può anche stare, però diciamo almeno quelli che ti spettano ci devono essere erogati. In quanto quest'anno è stato un anno particolare riguardo alla siccità che le aziende, come la mia e tante altre aziende, hanno per far sopravvivere il greggio, hanno speso molto, molto di più. In questi giorni stanno arrivando i pagamenti e alcune aziende non sono rientrate perché i nostri sindacati non hanno fatto il suo dovere, il loro dovere, andare a Roma al Ministero a battere i pugni dicendo quale cosa sta così, non come dicono loro perché a Roma non sanno che cos'è l'agricoltore. Ci sono aziende che in questi giorni non stanno percependo i soldi dovuti, già le spese della basicità, questi soldi che non ci arrivano, non lo so se l'anno prossimo la mia azienda e le altre aziende riescono a stare in vita. Sono deluso dalla politica regionale e nazionale e soprattutto dai nostri sindacati che fanno ben poco per risolvere questi problemi. Inoltre anche ritardi nelle comunicazioni per quanto riguarda la PAC doveva essere consegnato un dato il primo di gennaio per agevolarvi. Certo, è su questa cosa che sono molto deluso e molto arrabbiato perché per prendere questi soldi ci hanno dato un dato il 10 marzo 2024, quanto ci doveva essere dato il primo gennaio 2023. Dopo un anno, io non lo so come mi devo comportare durante l'anno se non ho un dato a cui fare riferimento. Più controlli sul territorio, furti, violenza di genere e passaporti. Il questore Vito Montaruli lascia Campobasso tracciando un bilancio delle attività. Alessandro Adamo Termina l'incarico del questore Vito Montaruli. Al suo posto, come già annunciato un mese fa, Cristiano Tatarelli, nuovo questore del capoluogo dal prossimo primo aprile, attualmente questore di Vimbo Valencia. Il questore Montaruli ha tracciato un bilancio della sua attività. Grazie al personale della questura di Campobasso che, pur con risorse invariate, in numero invariato, è stato incrementato notevolmente il controllo del territorio. Dal mese di novembre è in corso qua a Campobasso un'operazione di controllo straordinario del territorio con un personale tratto da settori della questura che non si occupano di soldi del controllo del territorio che è mirato al contrasto dei furti in abitazione. Attività che, unitamente alle altre forze di polizia, ha conseguito dei successi perché dai livelli, c'è stato un picco nel mese di novembre, siamo scesi a dei livelli molto molto più bassi. Da sottolineare quanto fatto per il rilascio dei passaporti, dove si è passati da circa 3.500 nel 2022 sino ad oltre 5.000 nel 2023, con un considerevole aumento di ore di apertura e di impegno di personale. Importante lavoro effettuato contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e contrasto alla violenza di genere. Il controllo del territorio serve anche a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti che è un fenomeno che è presente nel nostro territorio. Vorrei anche segnalare che è in aumento il numero degli ammonimenti, anche per stalking, oltre che per maltrattamenti in famiglia, perché nel primo trimestre di quest'anno abbiamo raggiunto già lo stesso numero di ammonimenti, 5, che avevamo attuato e effettuato in tutto lo scorso anno. Quindi c'è un'attività anche di contrasto della violenza di genere. La Guardia di Finanza festeggia quest'anno il 250esimo anniversario della sua fondazione. Era infatti il 1774 quando Vittorio Amedeo III di Savoia, re di Sardegna, promulgava il decreto che sanciva la nascita della legione Truppe Leggere. Il comando regionale del Molise, oltre all'organizzazione della cerimonia militare della ricorrenza, che si terrà il prossimo mese di giugno, ha programmato per lo stesso periodo la realizzazione di una mostra fotografica che nei capologhi di provincia, attraverso suggestive immagini, ripercorrerà la storia della Guardia di Finanza e ne illustrerà l'organizzazione e compiti, nonché un ciclo di conferenze e convegni educativi sulla specifica tematica presso gli istituti scolastici. Università come laboratorio. Da oggi in poi i studenti dell'Università degli Studi del Molise potranno simulare un processo all'interno di un'aula di un tribunale realizzata nella sede della Facoltà di Giurisprudenza a Campobasso. Il Presidente della Corte d'Appello, Vincenzo Pupilella, serve per la maturazione culturale e umana dei giovani. Inaugurazione storica all'Unimol. Gli studenti del Dipartimento Giuridico avranno a disposizione una vera e propria aula di tribunale presso la sede di giurisprudenza a Campobasso. Un traguardo importante che conferma la filosofia alla base dell'Ateneo molisano, ovvero che l'Università è da vivere. Gli studenti da oggi in poi avranno la possibilità di simulare un processo. La lodevole iniziativa è nata proprio da un'idea degli universitari ed è stata sviluppata dall'Unimol con l'obiettivo di confermarsi un Ateneo all'avanguardia. Soddisfatto il Rettore Luca Brunese. Oggi è una bella giornata nell'ambito delle attività che l'Università ha messo in essere per Università Svelate, che è la giornata nazionale dell'Università, prima volta quest'anno che si celebra, tra l'altro nella ricorrenza della giornata mondiale della felicità. È una bella associazione, potevamo essere meno fortunate. Questo evento di inaugurazione della nostra aula giudiziaria è stato inserito come una delle manifestazioni principali della giornata, perché vogliamo dare il significato di laboratorio anche agli studenti giuridici. A volte si pensa che lo studio in giurisprudenza sia uno scontato, per quanto interessante è il studio che si fa sui libri, invece c'è una parte che va implementata, secondo me applicativa, più interessante, come facciamo oggi attraverso l'inaugurazione di quest'aula, che speriamo di utilizzare presto e bene. Ospite d'onore è il presidente della Corte d'Appello di Campobasso, Vincenzo Pupilella, che ha permesso la sinergia tra il mondo degli uffici giudiziari e il mondo accademico. L'aula sicuramente sarà un momento di applicazione concreta delle regole sostanziali e processuali, che sono l'anima degli studi giuridici. Replicare anche nel mondo accademico, ovviamente in sede di simulazione, quello che accade nelle nostre aule processuali, nel confronto appunto tra le tesi e le antitesi portate avanti dalle parti processuali stesse, non può che servire a una maturazione culturale, ma io dicevo anche umana, degli studenti che si approntano per vivere i loro studi, non solo nell'aula giudiziaria, ma ovviamente anche nella società. I complimenti per l'inaugurazione di un luogo di incontro e confronto tra studenti e mondo del lavoro da parte di tutto il corpo docenti dell'Università degli Studi del Molise e dall'Ordine degli Avvocati. Veniamo ora all'Aquila, internazionalizzazione, accesso al credito, formazione, lavoro, turismo e accessibilità. Sono questi gli asset strategici delle iniziative economiche a sostegno delle piccole e medie imprese aquilane e terramane presentate questa mattina in conferenza stampa della giunta della Camera di Commercio Gran Sasso d'Italia che ha destinato oltre 560 mila euro al finanziamento di cinque nuovi bandi pubblici. Sabrina Giangrande. Sono stati presentati in conferenza stampa nella sede aquilana della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia i bandi per oltre 560 mila euro a sostegno delle pubbliche e medie imprese aquilane e terramane, previsti anche voucher lavoro. Alla conferenza stampa hanno partecipato il Presidente della Camera di Commercio Antonella Ballone, il Secretario Generale Fausto Emilia Clementi e il Vice Segretario Generale Salvatore Florimbi. Oggi presentiamo tutta una serie di bandi che abbiamo studiato e pensato per le aziende, cioè il bando sul turismo che va a stimolare i gruppi in periodi di bassa stagione e stimola comunque anche la visita delle città culturali quali Teramo e L'Aquila che infatti questo bando per queste due città ha una validità di 365 giorni l'anno e qui i gruppi possono prendere contributi fino a 7.500 euro per minimo due notti, minimo 25 persone. Quindi invito un po' anche gli albergatori nel momento in cui fanno preventivi a poter far presente di questa, tra virgolette, dote che mettiamo in campo come Camera di Commercio per attrarre turisti. Credo che sia importante comunque e in effetti sta avendo grande successo perché rende ovviamente le nostre strutture alberghiere appetibili, ovviamente da un punto di vista di qualità ma in questo caso anche da un punto di vista economico perché con questo contributo ovviamente li rendiamo particolarmente competitivi. Un altro bando che oggi andiamo a presentare è quello sul lavoro che in effetti è un po' una novità per la Camera di Commercio e mi piace sottolineare che va a sviluppare quelli che sono nuovi contratti di lavoro perché diamo contributi a partire da 2.500 euro fino a 4.500 euro o anche per le nuove assunzioni e per i contratti che da tempo determinato diventano a tempo indeterminato. E' una di quelle domande che più spesso ci mettono? Ed ora diamo uno sguardo alle previsioni meteo per la giornata di domani in Abruzzo e Molise. Previsioni del tempo per venerdì 22 marzo In Abruzzo rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa venti deboli, mare da poco mosso a mosso diamo uno sguardo alle temperature l'Aquila 8 la minima, 19 la massima Pescara 10-19 Chieti 8-19 Teramo 5-19 gradi I Molise correnti umide vanno lentamente smorzandosi favorendo ampie schiarite nel corso della serata dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa venti moderati, mare poco mosso diamo uno sguardo alle temperature Campobasso 5 la minima, 12 la massima Isernia 8-14 Termoli 10-14 Venafro 8-14 gradi Termina qui l'edizione del nostro Tg vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione non mi rimane che augurarvi una cordiale buona serata ma non andate via perché tra poco c'è la nostra pagina sportiva Eccoci con lo sport Otti in apertura c'è il calcio di Lega Pro la 33esima giornata domani è in programma l'anticipo del venerdì tra Sestri, Levante e Gubbio poi le gare di sabato Perugia, Pineto, Pescara, Ponte ed Era Re Canatese, Ancona Spal, Carrarese e Torres di Spesaro infine i match di domenica tra Arezzo e Fermana e Lucchese e Cesena si giocheranno il 3 aprile Juventus Next Generation Virtus Entelle Rimini, Olbia Parliamo del Pescara e vediamo come la formazione bianco-azzurra si sta preparando all'importante appuntamento di sabato pomeriggio con il nuovo allenatore che tiene tutti sulla corda Tutti in discussione non ci sono più maglie assegnate al giovedì tutti sulla corda fino alla fine della rifinitura e formazione comunicata solo poche ore prima del fischio d'inizio la cura a Cascione prevede il coinvolgimento dell'intera rosa il neotecnico ha optato per una terapia d'urto per svegliare un Pescara addormentato e quasi rassegnato a recitare un luoro marginale nel girone B della Lega Pro contro il Ponte d'Era di scena all'Adriatico sabato pomeriggio con fischio d'inizio alle 17.30 il tecnico non potrà contare sul lungo degente e Vergani sullo squalificato Cangiano e sull'acciaccato Pellacani nel 4-3-3 più equilibrato chi ha in testa il nuovo mister potrebbe rilanciare Cuppone che tornerebbe al centro dell'attacco equilibrio è questa la parola più utilizzata negli allenamenti del nuovo corso il Pescara dovrà attaccare ma farlo con giudizio facendo molta attenzione alla preventiva quando non è in possesso palla con Cuppone, Merola e a Cornero mentre in mediana è sempre più probabile il rilancio di De Marco indicazioni di massima nulla di più la formazione si saprà sabato poco prima del fischio d'inizio comandato dal signor Alessandro Silvestri della sezione di Roma 1 e domenica a Selvapiana il campo basso ospite il vasto Girardi la società ha lanciato un'iniziativa rivolta ai tifosi più piccoli con prezzi simbolici e animazione in tribuna intanto Consuelos nel suo talk esalta ancora i lupi e mostra primo piano Molise vedete contro il vasto Girardi non si può sbagliare lo sa la squadra lo sa prima di tutto Pergolizzi che sta lavorando anche e soprattutto sulla testa dei suoi sette giornate alla fine serve il massimo del supporto da parte del pubblico la società ha deciso di puntare questa domenica sui tifosi più piccoli per un Wolf Kids Day all'Avico Stadium animazione, contest, giochi gonfiabili zucchero filato e tante altre attività da compiere in compagnia della Mascot sarà inoltre possibile acquistare le uova di Pasqua ufficiali del campo basso e tutto il merchandising del club negli stand allestiti tutti gli under 10 potranno assistere all'incontro della tribuna laterale biondi al prezzo speciale di 1 euro assieme al proprio accompagnatore che potrà acquistare il biglietto per questa partita a solo i 9 euro ogni piccolo sostenitore rosso-blu riceverà in regalo un braccialetto ufficiale del campo basso al termine dei 90 minuti l'accesso all'area Wolf Kids Day sarà garantito anche a tutti i bambini di altri settori attraverso un varco interno nel corso del talk show Live with Kelly and Mark condotto da Kelly Ripa e Mark Consuelos partner del Campobasso Football Club al fianco di Matt Rizzetta i conduttori nonché moglie e marito hanno parlato dei lupi e in particolare dell'intervista che Consuelos ha rilasciato qualche settimana fa a primo piano Molise assieme al presidente rosso-blu Rizzetta e Consuelos spingono forte ce la giocheremo fino alla fine there we go what does that mean? that means... un'attenzione particolare dedicata alla squadra del capoluogo che conferma l'entusiasmo che regna attorno al club dell'italo-americano che da New York vuole fare tornare grande il Campobasso un derby cui ne seguirà un altro è un momento intenso quello che è chiamato a vivere il Vasto Girardi per il centrocampista Edoardo Cecuzzi la squadra è pronta a lottare sodo in ogni occasione sentiamo tutto da Vincenzo Ciccone Episodi decisivi per il centrocampista del Vasto Girardi Edoardo Cecuzzi e questa la sintesi più evidente del derby che Giallo Celesti hanno disputato al Ditella contro il Termoli una partita combattuta dove eravamo stati bravi a sbloccarla e a portarci in vantaggio poi dopo nel secondo tempo magari potevamo sfruttare meglio qualche occasione qualche ripartenza qualche altra occasione e poi dopo c'è stato questo rigore diciamo è finita 1-1 una partita dove è stata decisa dagli episodi Quanto a quella che è stata la condotta complessiva l'idea del giocatore è ben chiara Dopo l'1-1 loro abbiamo avuto sia occasioni noi ma anche occasioni loro quindi era una partita diciamo aperta sapevamo che era una partita difficile perché comunque il Termoli è una squadra importante La proiezione ora è tutta sulla sfida di domenica in casa della leader Campobasso Sappiamo che questo è un girone tosto sono rimaste sette partite noi andremo a battagliare in ogni campo per prendere punti perché vogliamo la salvezza E chiudiamo sempre con la serie D ma occupiamoci del Termoli con le dichiarazioni del tecnico Massimo Carnevale dopo il match disputato nell'ultima giornata Sentite Un'analisi a tutto tondo che parte dalla qualità dell'avversaria Massimo Carnevale tecnico del Termoli coglie di buon grado il pari dei giallorossi a Vasto Girardi Temivo questa partita non è che c'è da dire tanto perché avevo visto il Vasto Girardi più volte sicuramente non merita la classifica che occupa per quello che esprime in campo è normale che solo che al primo tempo credo che il Termoli non sia stato il solito Termoli un po' la bravura dell'avversario un po' eravamo sotto toni però credo che poi al secondo tempo credo che in campo ci sia stata solo una squadra non credo che forse potesse essere eccessivo il 2-1 finale per l'occasione che abbiamo avuto però credo che è stato un tempo a testa relativamente allo schieramento iniziale con i senatori Lombardo ed Esposito la strategia per il tecnico era sostanzialmente evidente abbiamo voluto mettere comunque un portiere esperto in porta davanti comunque purtroppo c'è una regola c'è una regola che non vale solo per il Termoli ma vale per l'Italia intera a livello di strategia ho preferito partire con Esposito perché partita in corsa sapevo che Kilian potesse strappare di più di vittorie e ci potesse dare un quel qualcosa in più ma giusto come strategia di partita però alla fine credo che inizialmente di aver schierato una buona formazione poi è normale e durante l'arco di una partita ci possono stare momenti importanti come un momento ben importanti tutto quello ora però l'attenzione va necessariamente sul prossimo match quello in programma domenica al Cannarsa contro il San Nicolò Notaresco le partite sono tutti così o incontri il Vasto Girardi in Matese o incontri da Sampo il Campobasso le partite sono queste se non le approcci con la mentalità giusta con la cattiveria giusta rischi come abbiamo fatto oggi a primo tempo che rischi comunque di andare sotto e poi diventa complicato quindi le partite sono tutte toste non solo in Notaresco ma tutte quindi domenica ci aspetta una gran bella partita ma noi dobbiamo fare punti importanti bene è tutto anche con la pagina sportiva grazie per averci scelto buona continuazione con la nostra programmazione arrivederci grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.